Oh oh! Tieniti forte, cara! Questa è la notte più bella della mia vita! Ci siamo quasi! Casa, dolce casa! Evviva! Finalmente siamo sposati! Oh oh! Sono così felice! Abbiamo aspettato tanto per questo, giusto? Oh! La mia pancia! Credo che il bambino stia scacciando! Cara, e adesso che facciamo? Devi sdraiarti e respira, cara! Ti senti meglio? Oh, amore mio! Credo sia una bambina! Oh, è così carina! Lascia che ti abbracci! Oh mamma, voglio i capelli come i tuoi! Sai, possiamo farlo! E io ti aiuterò! Va bene, tesoro? Sì! Ho un'idea! Ecco! Un grande temperino! Intelligente! Ora, trum trick! Due giri dovrebbero passare! Vediamo! Mi prendete in giro? Oh, così cool! Stai benissimo! Ops! Forse è meglio una parrucca! Come posso rifiutare? Ecco che arriva! È ora di tagliuzzare! Che ne dici? Va bene così? Oh, ottimo! Ti piace? Wow! Proprio quello che volevo! I miei splendidi capelli! Fantastico! Ma dove è andata? Che strano! Mamma! Papà! Mr. Delight! È piacere di conoscerti! Wow! Che bel braccialetto! Posso averne uno anch'io? Certo, tesoro! Ecco a te! Oh! Ma è troppo grande! Oh! Questo no! Non ci voleva! Mamma! Che devo fare? Ti prego! Aiutami! Certo, tesoro! Troverò una soluzione! Troom trick! Papà! Lo adoro! È ora di distribuire delle F! È il miglior antistress! F per tutti! Sarà un record! Quasi finito! Oh oh! Hai visto? Wow! Presto vedremo del fumo! Andiamo! Fermatevi! Dove state andando? Scusi, Mr. Light! Non siate timidi! Venite alla lavagna! Come vuole lei, miss? Avete fatto i compiti? Sì! È il mio rabocane! Perché dovrei aver bisogno di una cosa così inutile? E tu? Lo stai chiedendo a me? Ho fatto questo braccialetto! Oh, è carino! Funziona! Le piace? Fammi fare un braccialetto! Devo darti un voto! Certo, ecco qua! Il tuo voto è una C! Hai visto? Mi ha dato una C! Ne vorrei tanto una anch'io! Una F! Cosa? Non si ringhia in classe! Ops! Torniamo alla bambina! Dove sarà? Oh! Cosa? Quasi pronta! Che succede? Stai lontano da lei! Oh! Oh! Ma che stai facendo? È nostra figlia! Voleva essere truccata! Guarda, ora sono proprio come te! Non sono carina! Wow, tesoro! Stai benissimo! Guarda che cos'ho! Forte! Si possono fare dei braccialetti! Riempiamolo! Troom trick! E ora via! Proviamolo! Aha! Ho capito! Vediamo che succede! Wow, che bello! Pensi possa bastare? Wow, posso prenderlo! Aspetta! Prima spazzola il gatto! Miau! Lo farò! Ehi tu, non scappare! Ma quando l'abbiamo preso un gatto? Ok, va bene! Ecco la pellizia! Allora il braccialetto è tuo! Spero che ti piacerà! Grazie, mamma! Oh, povero gatto! Copriamo la tua calvizie! Oh oh! Torna dentro! Va bene, va bene, guarirà! Questo cos'è? Olio? Ora sono una macchina! Meraviglioso! Che ci devo fare con questo? Vediamo! Ma certo! Ho bisogno di vestiti! Caro, mi aiuti? Ok, cara! Prima ritagliamo la sagoma! Perfetto! Sembra buono! Che ne pensi? Non è come lo volevi? Elegante, no? Oh, perché a me dovrà farlo da sola! Non lavoro a maglia da secoli! Ma le mie mani si ricordano ancora come si fa! Ti serve un po' di filo? Bel lavoro! Grazie! Oh, sono così emozionata! Oh, ho consumato le matite! Serve un sostituto? Grazie! Quasi fatto! Bellissimo! Guarda! Hai ragione! È molto bello! Tesoro, guarda! La mamma ha fatto questo per te! Wow, lo adoro! Ringrazia la mamma! Oh, non è niente! Cos'è la tua gonna? Si è un po' sporcata! Va bene, mi inventerò qualcosa, caro! Hai bisogno di una sagoma? No, no! Niente cartone! Oh, tessuto allora! Oh! Non ridere di me! Non sai di che sono capace! Trum, trick! Preso! Una gonna per la mia meravigliosa figlia! Wow, grazie papà! Sei il migliore! Lasciami aggiungere qualcosa! Wow, che stile! Siamo sicuri di non aver dimenticato niente! Oh, giusto! La mela! Torna subito! Bene, bene! Ancora tu! Mr. Light, scusi! Giù i piedi dal banco! Sta cadendo! Devo aggrapparmi! Ottimo lavoro! Ma non potrai schivare questo! Room trick! Oh no! Prendi! Oh! Perché l'hai rovinato? Oh! Vieni alla lavagna! Ok! Risolvi il problema, se ci riesci! Ma è troppo difficile! Ho bisogno di un foglietto! Un attimo! Che cos'è? Imbrogli? Dovrò scannerizzarti! Wow! Non pensavo che avessi così tanti foglietti! Dovrò passare l'aspirapolvere! Ehi, piano! Mi stai risucchiando! È già intasata! Dobbiamo andarcene! Questo lo confisco! E anche questo! Caro! Ho una sorpresa per te! Apri! Wow! Un barpon! Forte! Questo cos'è? Spaghetti agli spinaci? Smettila! Ma ho fame! Li ho presi per fare una mela! Oh! Posso mangiarli? No! Aspetta! Prima arrotoliamo queste striscioline! Poi le mettiamo sulla mela! Trum trick! E il gioco è fatto! Tesoro! Guarda che carino! Grazie, mamma! Sembra gustoso! Ehi! Non mi vuoi bene per niente! Servizi sociali! Salve! Ah! Che piacere conoscerla! Sono Mr. Delight! Che incubo! Sono così acute! Spero che non ci siano bambini qui! Un attimo! Stavo solo scherzando! Oh oh! Dovrò comunque scriverlo sulla mia relazione! Che fastidio! Comportati bene o si prenderà la bambina! Che vuol dire? Oh! Cosa? Potevo farmi male! Ma che avete in testa? Che figura! Devono essersi rovesciate dall'astuccio! Forse un caffè? Si accomodi! Ho matite fritte! Molto buone! No, grazie! Perché l'hai detto? Va tutto bene? Certo che va bene! Ho visto abbastanza! È troppo pericoloso per una bambina a vivere qui! Che vuol dire? Dai, tesoro! No! Lasciala andare! Mamma! Salvami! Ragazzi! Per favore, aiutateci a riavere nostra figlia! Mettete un like! Che sta succedendo? Ce lo stiamo facendo! Continuate così! Dobbiamo salvarla! Ah! Fa male! Ora basta! Evviva! Mi avete salvata! Certo, cara! Ti vogliamo tanto bene! Oh! Devo tornare al lavoro! Ciao a tutti! Te è piacere di conoscervi! Ho un bel po' di tempo per farlo! Oh! Un dispositivo! Che c'è? I telefoni sono vietati in classe! Capito? Questo ti servirà da lezione! Ho rovinato tutto! Oh! Sto interrompendo qualcosa! Ah! È lei! Entri pure! Ci è mancato poco! Avvicinati! Ho una sorpresa! Ciao a tutti! Perché è così felice? Ora lavorerete insieme! Sono felice di conoscervi! Mi sta già dando fastidio! Ora devo andare! Signorina Betty lo sa che sono la migliore insegnante, vero? Non può mettermi in difficoltà! Wow! Posso dare un'occhiata? Questa sarà l'ultima casa che vedrai! La campanella! Woohoo! C'è la pausa! Bene! Sembra che tu sia stata affortunata! Sono a casa! Sì! C'è entrato! Che è? Ciao! Ciao! Siamo i vostri vicini! Vi abbiamo portato un dolcetto! Sembrano simpatici! Ciao! Va tutto bene? Oh! Sono strani! Congratulazioni per la nuova casa! Questo è per voi! Guarda qua! Chi prende la prima pezza? Ecco a te, cara! Mmm! Gustoso! Forse non è così male! Va bene, entrate! Vuoi giocare con noi? Caro, preparati! Voilà! Ora prova a buttarlo giù con la matita! A sicuro? Trum trick! Caro, attento a come lanci! Non essere timido! Caro, andiamo a casa? Ok, tesoro! Già ve ne andate! Perché non giochiamo a Twister? Che ne dite? Per favore! Va bene! Ora rendiamo le regole più difficili! Ma questo gioco è crudele! Trum trick! Chi sarà il primo? Io! Oh no! Piccola, aspetta! Oh! Corri! Dove stanno andando? Guarda! Cosa è questo? Una mini balestra! Sono pronta! Prendi questo! Trum trick! Oh, l'ha mancato! Non preoccuparti! Ora ti faccio vedere come si fa! Oh! Wow! Che figata! Grazie per la borsa, mamma! È stato fantastico, cara! Facciamo una foto! Bene! Tutti pronti? Sorridete! Anche io voglio un'arma! Sono cresciuta! Caro, fermala! Oh! Ho un'idea! Togliamo qualche extra! Oh! Ecco un palloncino! Dovrebbe funzionare! Trum trick! Penso che sia venuto benissimo! Le piacerà! Oh no! Devo andare a lezione! Ah ah ah! È ora di dare dei voti a questo test! Una app! Che farei senza di te? Dov'è la mia borsa? Oh, eccola! Salve, signorina Delight! Beh, ciao! Ti rendi conto? Sei una musa! I bambini ti hanno disegnato! Ed è stato così bello! È proprio così! Ha ha ha! Oh! Chi è stato? Ehi! Fatemi uscire! Ehi! Aiuto! E adesso che faccio? Ho un'idea! Questa matita mi tornerà utile! Bene! Me ne vado via di corsa! Non ha funzionato! Solo un attimo! Credo di aver trovato la serratura! Ragazzi, ho davvero bisogno del vostro aiuto! Per favore mettete un like e la serratura si aprirà! Aiutatemi ad uscire! Mancano solo pochissimi like! Buuh! Ha funzionato! Siate fantastici! Grazie! Uh uh! Hai visto il mio disegno? È un capolavoro! Lo appenderà sul mio armaghietto! Oh! Grande idea! Io farò lo stesso! Lo attaccherò con una gomma! Che bello! E adesso che faccio? Uh uh! Questo andrà bene! Uh uh! Uh uh! Ok! Ora anche il mio disegno starà sull'armadietto! Sì! Andiamo via! Che state facendo? Oh! Ci ha spaventati! È quello che volevo! Sta trovando qualcosa? Bambini fastidiosi! Rimuovete questa roba dagli armaghietti! Questo è incastrato! Non preoccuparti! Me ne occupo io! Ah 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 ah! La prego! La smetta! Non lo faccia! Ma certo! Uh uh uh! Chi è il prossimo? Sono in ritardo! Che c'è che non va? È successo qualcosa? La signorina Delight si è arrabbiata per i disegni e ha rotto gli armadietti! È moccio questo! Non preoccuparti! Sistemerò tutto! Troom trick! Wow! Lei è incredibile! È ora di mettersi al lavoro! Per prima cosa arrotoliamolo! E mai dimenticare la sicurezza! Un attimo! È quasi pronto! E ora l'arancione! Wow! Sembra una carota! Dog Day! Puoi decorarla con delle macchie! Puoi farcela! Troom Troom Trick! Fatto! Che figata! Siamo stati bravi! Katna! Fa un compito anche per te! Ti occuperai della parte superiore! E anche degli occhi! Uh uh! Fantastico! Troom Trick! C'è l'ha fatta! Mettiamoli in cima! Uh uh! È venuto un bellissimo lavoro! Questo armadietto è fantastico, vero? Wow! Ora tutti avranno il loro nuovo armadietto! Ci piace tanto! Grazie, signorina Betty! Siete i miei adorabili bambini! L'importante è che siate felici! Davvero? Niente abbracci a scuola! Uh! Non lo sapevo! Ah ah ah! Che spigati! E questi che sono? Oh! Un'idea meravigliosa! Oh no! Cos'è questo mostro? Mamma! È ora di scappare! Le sta bene! Bene! E ora sbrighiamoci! La lezione sta per iniziare! Forza! Entrate! In fretta! Dobbiamo iniziare! Abbiamo dimenticato qualcuno! Ora tocca a me! Va bene! Ok! Bene! Ora va meglio! Oggi scolpiremo! Uh! Fa così freddo! Non avevano detto che oggi avrebbe nevicato! Oh sì! Ecco la vostra argilla! Dovete modellarla! Avanti! È così fredda! Oh! Il tempo scorre! Sbrigatevi! Come facciamo a scolpire questa roba? Uh! È più dura di un sasso! Forse dovrei spaventarla! Woof! Il tempo scade! Uh! Non riesco neanche a morderlo! E adesso? Uh! Aprimi! Ci penso io! Lancia l'argilla! Solo dice lei! Ok, signorina Delight! Guardi! Che c'è lì! Ha funzionato! Getta l'argilla nello zaino in fretta! Ce l'abbiamo fatta! Mi state nascondendo qualcosa? Ragazzi, ecco! Mi ho portato la fiamma ossidrica! Ehi, che c'è lì? Lì dove? Non posso credere! Ci sia cascata! I vostri giocattoli sono pronti! Vi somigliano, no? Prendeteli! Io non vedo niente! Ecco fatto! Ci vediamo! Oh, il risultato è fantastico! Sì! Oh, davvero? Questa è l'ultima goccia! Consegnate il vostro lavoro! Vediamo! Impossibile! Perché sei così felice? Ridammelo! Oh, come hanno fatto a fare questo? Non sapevo fossi un gatto così spaventato! Ti diverti? Vediamo chi riderà adesso! Fine della lezione! Potete andare! Te la sei cercata! Preparati alla sconfitta! Miss Betty, noi crediamo in lei! Non funzionerà! Lo vedremo! Crediamo in lei! Vincerà! Nessuno mi ha mai battuta! Tre punti! Sì! Perché siete così silenziosi? Allora dov'è Betty? Canestro! Uh uh! Niente male, no? Te la sei cercata! Non ho fatto canestro! Ora tocca a me! Ops! Signorina Betty, salve a tutti! Questo no! Oh! Sta bene? Niente di grave! Sicuro? Sì! Ho bisogno del suo aiuto! Questa insegnante mi sta mettendo in difficoltà! Non posso risolvere il problema senza di lei si sbrighi! Salve a tutti! Questa è la vostra nuova insegnante! Sono la signorina Betty! E questa chi è? Ciao collega! Diamo il benvenuto alla signorina Betty! Spero che diventiate amiche! Piacere di conoscerla! Ora vi lascio! E buona giornata! Come sta? Sta benissimo! Ma che c'è che non va? Oh! No! Il mio povero telefono! Non piangere! Vuoi un nuovo telefono? Prendi questo! Wow! È ancora più bello di quello vecchio! No! Niente telefono in classe! Non di nuovo! Guarda! Ce n'è un altro! Grazie! Ok ragazzi! Spero che potremmo diventare amici! Che ne dite di un test? Iniziamo! Questo è per te! Prendetevi il vostro tempo! Sono certa che ce la farete! Non preoccupatevi! Avete 15 minuti! È troppo tempo! Sembra che non stia guardando! Mi sembra di aver sentito qualcosa! È un foglietto? Dammela subito! Che brutta cosa! Non posso crederci! Hai visto, Betty? Mi dispiace! Mi dispiace! Oh no! Vi manderò tutti dal preside! Oh! Ho un'idea! La prima risposta è la C! Potete vederla tutti? Grazie, signorina Betty! Sarete cacciati tutti dalla scuola! Sei un po' sospettosa! La seconda è la A! Ah ah! Capito! State andando alla grande! Wow! Che cosa è stato? Ok, caro! È ora di darmi il test! Wow! È un ottimo risultato! Chi è il prossimo? Wow! Tutte le risposte sono giuste! Sei la migliore! Ma chi si crede di essere? È inaccettabile! State dritti! Oggi avrete una sfida importante! Il vostro futuro dipende da questo test! Chi sarà il primo? Forse potremmo cominciare con te? No! Con te! Ok! Quanti ne servono? Wow! Non me l'aspettavo! Posso farlo per tantissimo tempo! Basta! Smettila di saltare! Sei fastidiosa! Prova con questa! Voglio vedere se ce la fa! Sul serio? Ok! È pesante! Ha ha ha! È stato molto divertente! Tornati ai vostri posti! E adesso che posso fare? Oh! Ci sono! Nuovo argomento! Sollevamento peso! Avanti tu! Forza! Vai! E fai attenzione! È davvero nel programma! Non riesco a sollevarlo! Ok! Smettila! Povero bilanciere! E ora tu! Alzati! E guarda! Ti faccio vedere! Ah! Questa è vera potenza! È chiaro o no? Ehi! Ciao a tutti! Oh! Questo no! Ops! Scusate! Che hai fatto? Che figura! Ragazzi! Ecco! Sapete sì! Lo so! È divertente! Ma ho qualcosa di interessante per voi! Decoreremo la corda! Mi hai fatto arrabbiare! Oh no! Quest'insegnante spacca! Dalla me! Tiro alla fune! Bene! In piedi ragazzi! Potete fare tutto quello che volete! Ma tanto vi sconfiggerà comunque! Non arrendetevi ragazzi! Questa non vi aiuterà! Wow! È così forte! Ragazzi! Per favore! Mettete un like! Così potremo sconfiggerla! Ma chi tirerà? Solo un paio di like! Per favore! Non ce la faccio più! Il gioco è finito! Avete perso! Nessuno può sconfiggermi! Dai! Aiutatemi! In fretta! Prenderete tutti una F! Per favore! Non lo faccia! Bene! Grazie mille! Ora ci sentiamo più parti! E di sicuro vinceremo! Tieni duro tesoro! Ancora un po'! Ce l'abbiamo quasi fatta! Dobbiamo unire le forze! Avanti! Wow! Bene! E uno, due! Uh-huh! Ce l'abbiamo fatta! Non la dimenticherò mai! Uh-uh-uh! Abbracciamoci! Bene, bene, bene! Qui non c'è nessuno! Perfetto! Dobbiamo prepararci! Ehi! Non correte! O volete tutti una F? Siete insopportabili! Iniziamo la lezione! Oh! Che sta facendo? Mescoliamo i nostri reagenti! Così otterremo una soluzione speciale! Non è pericoloso! Sembra un po' strano! Versiamone di più! Oh! 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 Che ti aiuti! Forse dovresti andare al pronto soccorso! Ecco! Prendi un tovagliolo! Grazie! Posso farcela da sola! Bene! Prepariamo i reagenti! Sì! Ottimo! Sono sicura che non ci riuscirà! Oh! Io so come aiutarla! Aggiungiamo un po' di divertimento! Bene! Ma che cos'era? Oh! Mi dispiace tanto! La lezione è rovinata! Oh no! E adesso? Che posso fare? Ti consiglio di smetterla! È in fretta! Ragazzi! Ho un'idea! Possiamo realizzarlo con quello che abbiamo a disposizione! Bene! Bene! Queste dovrebbero bastare! Mescoliamo e mescoliamo! Fantastico! E ora mettiamo la bottiglia nel calzino! Sono certa che funzionerà! Mettiamo il calzino nella soluzione! Wow! Che figata! Davvero incredibile! E soffiamo le bolle! Fantastico, Miss Betty! Bene, bene, bene! Che ne pensate? Sicuramente un dieci! Wow! Sono felice che vi sia piaciuto! Il nostro scheletro è composto da tantissime ossa! Come il cranio! È ora di sistemare le tue di ossa, Betty! Vieni qui, Scully! Manca solo un piccolo dettaglio! L'osso radiale! Oh! Ci ha portato un manichino! Nessun problema, collega! Muovetevi! Spostati! Questo è il posto migliore per guardare! La colonna vertebrale è composta da diverse sezioni e ci mantiene in piedi! È l'ora di Scully! Iniziamo il nostro show! E ora avanti a tutta velocità! Oh! Ma che sta succedendo? È vivo! E questo è solo l'inizio! Aiuto! È stato esilarante! Fantastico! Torna qui! L'hai visto? È stato divertente! Ma cos'ha che non va? Che lezione fantastica! Ok, ora basta! Adesso si fa sul serio! Faremo un bel test! È ora di provare i miei occhiali magici! Ok, ragazzi! Iniziate! Tempo scaduto! Devo raccogliere i test! Ma non ho finito! Non mi importa! Il tempo è scaduto! Solo un attimo! Stai dormendo in classe? Avanti! Altrimenti... Dammelo! Ora va meglio! Spero che questo non rovini i voti del tuo trimestre! F! E ora il prossimo! È così faticoso! Sono davvero esausta con tutti questi voti negativi! Oh! La mia mano è intorpidita! Ma ho un'idea! Questo renderà tutto più facile! Sono un genio! Ora sì che è un vero piacere! Potrò anche leggere una rivista mentre gli do F! Ma che sta succedendo? Sta dando dei voti! Che incubo! Sono solo F! Ma è disumano! Devo fermare tutto questo! Devo sostituire il timbro! Non credo che se ne accorgerà! Semplicemente fantastico! Bene! Ho finito! È ora di ridare i test! Divertitevi! Guardate quanto ha preso! Perché sono così felici? C'è qualcosa che non va! Aspettate un attimo! Come ha? Ehi! Ridatemeli! Betty! È stata lei a fare questo! Come ha usato! Uah! Betty! Credo che abbia funzionato! Ciao! Ora imparerete tutto per l'esame! È chiaro? Perché andrete davanti alla commissione! Forza! Per favore non lo faccia! A me no! Volete una F? Per favore calmati! Ma tu chi sei eh? Ehm! Non è questo! Visto che sei così intelligente! Allora falla tu lezione! Oh! Ok! Allora cosa abbiamo qui? Wow! È davvero un po' troppo complicato! Iniziamo da qualcosa di più semplice! Chi vuole rispondere? Avanti! Oh! Sembra semplice! Non aver paura! Quanto fa due più due? Non lo so! Oh oh! Non preoccuparti! Se hai due Twix, quanti bastoncini hai? Uno, due, tre e quattro! Esattamente! Quattro! Brava ragazza! E questo è il tuo voto! Non in faccia! Ma certo che no! Lo metterà sul test! Eccolo! Uh uh! Lo appenderà sul frigorifero! Vuoi un Twix? Sì! Ma è vuoto? Oh no! Come è potuto succedere? Ah! Già! Vorrei davvero saperlo! Uh! E ora non è più il tuo cioccolato, eh! In realtà c'è una regola! Niente dolci! Hai sentito? Uh! Ma questa è una regola per gli studenti! Mica per gli insegnanti! Non prendertela, tesoro! Ecco, la regola non vale per me! E comunque grazie per il cioccolato! Questo è per l'insegnante dell'anno! Ovviamente sono io! Vinco questo titolo tutti gli anni! Sono una vera regina! Stai bene? È brutto essere così cattivi! Siete tutti mediocri! Ma cercate di tirare fuori un po' di talento e forse vi darò almeno una C! Se sarete fortunati e diventerà la vostra musa, beh, non c'è di che iniziamo! Ok! Sono una dea! Uh! Inizierò con la verruca! Come va? Uh! Abbiamo già iniziato! Cosa? Questa è arte! Questa? Questa cos'è? Perché sarei blu? Non si offenda che io la vedo così! Sciocchezze! Devo distruggere tutto questo e tu prendi una D! Per favore! Scusi! Non deve essere così severa! Non dirmi come insegnare! È così nervosa! Piccola, non piangere! Non ascoltarla! Hai molto talento! Invece ho un'idea! Dov'è andata? Sono qui! E sono la tua nuova modella! Mi hai riconosciuta? Mi hai disegnata? Ehi, non essere triste! Dobbiamo essere felici! Sei così carina! Per favore, vieni da noi più spesso! Con grande piacere! Unisciti a noi! Che figata! Che sta succedendo? Questo è un incubo? Ehi, non ti sento! Questo non è un circo! Ops! Non te la caverai solo con Ops! Tutti dovrebbero vedere questo! Lascialo andare! Ridammelo subito! Quindi sei stata tu! È così divertente! Non sapevo che la signorina Phoebe fosse una lottatrice! Wow! È diventato virale in fretta! Sta arrivando! Nascondiamoci! Perché ridacchiate? Veramente eravamo in silenzio! Vi terrà d'occhio! Quello è un telefono! Avete dimenticato le regole? Niente telefono! Che fanno le mie giovani menti? Vediamo! È così divertente! Che espressione! Non resisto! Oh mio Dio! Guarda questa! Quelle sono le mie fatte migliori! Non sono divertenti! Oh, la sono invece! Anzi farò di più! Farò un ordine pronto? Oh, sono già arrivati! Ottimo! Pagherò con una carta! Un attimo! Quello è il mio telefono! E ora vattene, brutta studente! Non hai diritto di farlo! Ehi tu, attivista per i diritti umani! Vuoi per caso altri problemi? Coloro che infrangono le mie regole dovranno essere puniti! Ora pensa bene al tuo comportamento! Tanto non hai nessun posto in cui nasconderti! Quindi inizia a risolvere questo problema! Oh, facile! Oh, apri gli occhi! È un lavoro enorme! E hai cinque minuti! Oh, davvero? Non posso muovermi? Oh, ho capito! Ragazzi, per favore mettete un like a questo video così potrò andarmene! Vi prego! Aspetta un attimo! Non permetterò che tu perda la lezione! Ehi, non vi permetterò di aiutarla! Oh! Per favore ancora un po' e potrò liberarmi! Vi imploro! Oh, siete i migliori! Finalmente sono libera! Ci vediamo, signorina Phoebe! Uh, anche i like dovrebbero essere vietati! Wow, è tutto così carino e interessante! Che ne pensate? Facciamo un esperimento! Mescoliamo un po' di acido citrico e la soluzione salina! È una lezione! Ecco fatto! Che altro posso aggiungere? Oh! Sa io cosa! Oh, oh, oh! Questa miscela sembra stabile! Ma non durerà a lungo, piccola! Ho un ingrediente speciale per te! Oh, sì! Sì, vediamo che cosa hai da dire adesso! Oh, oh! Che succede? Questo no! Guardate che faccia! Non ce la faccio! Devo spegnere tutto! Trumfrit! Uh, ce l'ho fatta! Baby! Betty! Non ti perdonerò per questo! Mi lamenterò con il consiglio degli insegnanti! Sarai licenziata! Questo non va bene! Ora, ragazzi, possiamo pranzare! Buon appetito a tutti! Buon appetito, Miss Betty! Chi ha fatto questo? Uh, uh, uh! Oh, buono questo hamburger! C'è qualcosa che non va! Oh! Tesoro, non hai cibo! Non arrabbiarti! Condivido il mio con te! Facciamo uno scambio! Stai scherzando? Grazie mille! Mangia, tesoro! Il mio voto è per Betty! Betty, questa lezione è mia! Dammi quella sedia! Che cos'è? Che vuol dire? Sembra che vogliano prendersi la mia vittoria! Mi dispiace! Ti ricordi le regole? Niente cibo! Questa non è una mensa! È colpa mia! Ecco qua! E sono stata generosa! Tutto qui? Mi sento un po' una catra! Deliziosa! Odio l'insalata! Ok, continuiamo! Oh, mi sono ricordata! Fermati! Niente caramelle! Ti tengo d'occhio! Chiaro? Sì, baby! Non prendertela! Troveremo una soluzione! Non lascerò che tu resti affamata! Penso che Missy mille regole non se ne accorgerà! Ti permette di portare una calcolatrice, giusto? Wow! Lei è un genio, signorina Betty! Grazie! Nascondiamoci! Ho dimenticato la mia cartella! Bene, bene, bene! Perché sei così felice! Non è più una lezione di matematica! È solo una calcolatrice! Ok! Guardi! Ok! Farà una nuova regola! Che professoressa cattiva! Oh! Delizioso! Ah, ci ha mancato poco! E ora controlliamo i compiti! A più per tutti! Solo per il vostro impegno! La mia classe è la migliore! Collega! Che stai facendo? Ti sta disturbando? Non si sente bene! Lasci che l'aiuti! Le sono vicine! Ora si sentirà meglio! Fantastico! Non mi scuotere così! Oh no! Le opere dei ragazzi! Oh! Che tristezza! La prossima volta fai più attenzione! Pensi che sia tutto? Tieni, asciugali! Che carina! Sembra che non si accenda! Sarà divertente! È ora di salutarci! Oh no! Ha ha! Non posso crederci! Ci sei cascata! Non è divertente! Avresti potuto rovinare i loro compiti! Spiegata! Ho quasi stabilito un record! Sono così annoiato! Mi sono quasi addormentato! Alzati! Studia! Non ti lascerò dormire durante le mie lezioni! Leggi! Oh! Che strano silenzio! Non posso dormire così! Ora va meglio! Ma è un po' freddo! Ma certo! Ho qualcosa con cui coprirmi! Sogni d'oro per me! Buongiorno! Non sto dormendo! Il Sud America è il continente più... Oh! Siediti! È un A? Oh tu! Volevi prendermi in giro? Non ho neanche iniziato! Sembra che non ci sia nessuno! Non ho bisogno di testimoni! Via libera! È ora di mettere in atto il mio piano! Sicuramente nessuno lo dimenticherà! Oh sì! Mettiamoci l'intero tubetto! Non incrocerai più la mia strada, tesoro! Ha ha ha! Sono molto brillante! Oh! Sta arrivando qualcuno! Certo, Jeremy! Ti richiamo io! Ok, vediamo! Ehi! Che male! Cosa? Chi è stato? Se la vita ti dà limoni, tu fai una limonata? Molto meglio! Nuovo giorno, nuove opportunità! Ui! Il mio telefono! Ma che cos'è? È incastrato! Forza! Che schifo! Due a zero, collega! Ma perché era nuovo? Ora va, te ne riempirai in questo posto di lacrime! Cosa? Oh no! Andiamo! Questa stupida colla! Perchè? Non pensarci neanche, il premio sarà mio! Benvenuti al premio per il miglior insegnante dell'anno! Abbiamo due candidate! Bu bu! Signorina Betty, la amiamo! La signorina Phoebe è terribile! Diamo un'occhiata ai voti! Oh sì! Sembra che conosciamo già la favorita! Come vi sentite? Siete preoccupate? Chi vincerà? Lo scopriremo tra un minuto! Uh beh! Phoebe non è così fortunata quest'anno! Non può essere vero! Guarda! Ragazzi, cos'è questo? È un bene che abbia preparato tutto in anticipo! Vincerai più intelligente! Possiamo continuare! E ora torniamo alle votazioni! È il momento di contare i voti! Prendete e iniziamo! Grazie! Molto presto scopriremo il risultato! Spero di essere fortunata quest'anno! Mettete un like a questo video se volete conoscere il voto finale! Evviva! Non può essere! Ci deve essere un errore! Congratulazioni alla vincitrice! Lei è la nostra insegnante dell'anno! Ah, te ne pentirai, lo giuro! Questa è la mia vittoria! Oh no, baby! Non farlo! È troppo tardi! Il premio doveva essere mio! Ehi, ma che mi hai fatto? Ha ha! Rimarrai qui per un altro anno! Ma non preoccuparti, andrà tutto bene! Oh, perché mi guardi? Vuoi rimanere anche dopo la scuola? Che faccia tosta! Mi hai fatto ridere! Non riderei se fossi in lei! Io sono un super bambino! E allora che mi parai? Drum trick! Wow, grazie! Mi hai salvato la vita! Forza, andiamo! Ok! Drum trick! Wow, ma dove siamo? È così bello qui! Prenditi cura di lei! Ok, lo farò! Allora, vuoi diventare una super eroina? Io sono Capitana America, ok? Scegli chi vuoi essere! Voglio essere come lei! Fantastico! Allora tieni questa! Questo è un ologramma! Grazie! Oh sì! È ora di ingrassare! È Flash! Che figata! Ciao! Tu sei nuova? Aspetta un secondo! Voglio dire un millisecondo! È il momento di correre! Ok, ma non fischiarmi nell'orecchio! Non superare la linea! Cominciamo quando fischio! Drum trick! Wow! Non riuscirò mai a starmi dietro! È veloce come una saetta! Ehi! Stai troppo indietro! Andiamo! Eh sì! Sto arrivando! Questo non sembra un costume da super eroina! Mi dispiace, ma non ce l'ho! Ho un'idea! Prova questo! Questi sono squame di vibragno! Ti staranno bene! Fantastico! Sono riuscito a raggiungere Hong Kong! Ma dov'è? Oh sì! Sono un po' goffa con questo vestito! Semplicemente fantastica! E ora torniamo ad allenarci! Drum trick! Wow! Quanta energia! Potrei correre per sempre! Oh! Perché stai rallentando? È veloce! Oh no! Quasi dimenticavo! Proprio così! Drum trick! Oh! Perché? E adesso che pensi, eh? Grande! Non riesco più a starti dietro! Sarai un'ottima giunta alla squadra! Bene! E ora? Devo occuparmi del make-up! Fantastico! Non vedevo l'ora! E da dove iniziamo? Oh! Fai attenzione! Che maldestra! Dovrebbe essere qui! Che allenamento! Sono esausta! Fai attenzione! I cattivi sono intelligenti e pericolosi! Che noia! Ehi! Sono stanca! Continuiamo! Jogger è particolarmente pericoloso perché non sai mai cosa aspettarti da lui! Oh! Ecco il divertimento! Che ne dici di un piccolo restyling? Wow! Questo è un capolavoro! Mi sono persa qualcosa! Poi attenzione! Cosa? Andiamo avanti! Che c'è che non va in me? Harley! Sei stata tu! È terribile! Ehi! Smettila! Ah! Tu! Sono nei guai! Cerchi i problemi? Ragazze! Eh! Stavamo solo parlando! Fate silenzio! Questo è il modo in cui mi ringrazio per il make-up! Ops! Questo succederà a tutti quanti! Lascia! Mi stavo solo scherzando! Time out! Nessuno uscirà da qui! È chiaro per entrambe? Sì, capo! Assolutamente! Andiamo avanti! Boom! Nerd! Molto meglio! Così mi piace! Cosa? Ma come hai fatto? Un libro sulle sirene! È da lì che viene questo trucco! Chewingham! Conosci le regole, oh! Che ragazza cattiva! E tu, sirena! Stai benissimo! Continua a creare il tuo costume! Evviva! Il prossimo passo è il diadema! Lo troverò! Non perdere tempo! Corri! È così carina! Allora, dove sarà? Wow! Caglia! Ciao, sorella! Sono Wonder Woman! Il capo della tribù delle Amazzoni! Vieni da me! Wow! Io? Ok! Caglia! Che ne pensi? Posso diventare un'amazzone? Proprio come te! Iniziamo da qualcosa di semplice! Ripeti! Ehm... Tipo così? Non ce la farò mai! Non te la prendere! Ci sono! Andiamo! Seguimi! Quello che ti serve per avere fiducia in te stessa è un diadema! Per fortuna posso risolvere questo problema! Cominciamo! Fantastico! Mescoliamo il colorante con il gel! Forza! È così bello! Strum trick! E ora riempiamo lo stampo con il nostro colorante! L'importante è non esagerare, altrimenti non funzionerà! Un passo dopo l'altro e raggiungeremo l'obiettivo! Proprio così! La conchiglia è pronta! Sono così orgogliosa di me stessa! E ora passiamo al cerchietto! Ritagliamo la forma da un pezzo di pomeran! E ora avvolgiamolo in una stoffa! Penso che sia perfetto per me! Meraviglioso! Incolliamo le basi con la colla a caldo! Non vogliamo mica che vada in frantumi! E ora la ciliegina sulla torta! Wow! È ora di provarlo! Wow! Che bello! Sì, e ti sta molto bene! È incredibile! Ti è piaciuto il nostro nuovo video? Allora assicurati di mettere mi piace e di iscriverti! E ci vediamo la prossima volta!